Un tortino avvolgente con patate dolci e un tocco di cannella. Raccogli patate dolci, zucchero di canna, cannella, burro e latte. Cuci e cuoci le patate dolci fino a quando non diventano morbide. Schiaccia le patate dolci e mescola con zucchero di canna, cannella e burro. Versa il ripieno in un piatto da forno, versa il latte sopra e in forno. Estrai il tortino dal forno, lascia raffreddare e servilo con una spruzzata di cannella. Grazie a tutti.